C'è l'accesso, la casa qui sotto è la casa C'è come la sai la risposta? Maria Grazia, Maria Grazia e Limoni! Maria Grazia! Stai guardando, Alex stai guardando! No, questa scala c'è l'accesso, la casa qui sotto è la casa C'è come la sai la risposta? Maria Grazia, Maria Grazia e Limoni! Maria Grazia! Stai guardando, Alex stai guardando! Stai guardando, Alex stai guardando! Vai ragazzi, tutti insieme, su con le mani, dai, uno, due, tre, e ancora, vai, io un po' come la Jill Cooper, buonasera, buonasera a tutti quanti, benvenuti, come state ragazzi? Come va? Come va? Buona, scusate che ho sputato in realtà, buona domenica, come va? Questa calda domenica qui in realtà non molto calda, un po' più fresca, però va, va che sì che va, come va? Allora, saluti, come va? Tutto bene? Bene, grazie, come vedi, come sempre, sei bellissima, fai un giretto per quella camera meravigliosa, oggi sei a Rio de Janeiro, benvenuta, proprio a Rio de Janeiro, insomma, direi, però ci sta, dai, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Allora ragazzi, come va? Innanzitutto, saluti, ciao la nostra Niki, che poi, vabbè, poi vi dico, la nostra Erminia, ciao Ermi, ciao Fefi, è arrivata pure nonna! Ciao, ciao, ciao! Allora, ovviamente io questa sera è in versione molto ginnica. Perché tu, scambalosamente tu, spregiudicatamente tu, cerchi un nuovo scoop, tu lo voglio di più, sono la vera scandalosa. Arriva, 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 eh, stasera tanta rubetta, eh, va bene che è l'ultima live della stagione, però, insomma, tanta, tanta rubetta stasera. Super carichi, infatti vedo super carichissimi, ragazzi. Allora, c'è, niente. Siete favolosi. Giusto? E quindi? Cosa? Il sesso, made in Italy, l'amore, made in Italy. Il sogno, made in Italy, la storia, made in Italy. Ok. Bonico si sound a led, faremi fai i saluti. Cavallo goloso. Eh, cavallo golosissimo, proprio. Allora, ciao la nostra Federica, ciao Tatti, ciao Picci, che la nostra Eleonora... Scusate, stavo parlando... Ciao Tony, eh, ciao Lady Dupi, eh, ciao Lalla, mh, ciao Nonna, che ovviamente si è annunciata, giustamente. Eh, ciao Kate, come stai? Eh, ciao Terry, benvenuta, ciao a tutti. Ciao ragazzi, come va? Allora, l'avete richiesta, l'avete annunciata, la volete, la bramate, arriva, eccola, ho capito, va bene, la do, la do, la do. Taccatacca, sexy bomba, eccola la sexy bomba, cosa sta... Sei già in versione hawaiiana, pronta a mare, profumo di mare? Mamma mia, guarda cucchiaie, figlio mio, si è marrone. C'è anche la versione quella un po' a Leone, stai, taccatacca, taccatacca, sconda, taccatacca, sexy bomba, bomba, bomba. E' arrivato pure Emilia Nuccio, pure Emilia Nuccio, niente. stasera c'è ci siamo solo sound una live solo di sound no c'è contest ragazzi contest quindi stasera contest chiudiamo l'anno di live con contest fammo salutare fammo salutare ciao nighi, ciao ermi, ciao Fefi, ciao Tazzino ciao Toni, ciao Alessia ciao Lalla ciao Kate ciao nonna, ciao Terry troppo Alessandra entra dentro lo schermo se sta abbassando troppo ciao Alessandra Samara, quella di The Ring esce fuori dal televisore tra un po' non so perché mi fai morire comunque, comunque, stasera non siamo da soli perché con noi, l'ho detto prima l'ho spoilerato prima c'è anche lei, la nostra Niki ciao Nicole ecco buonasera a tutti ciao ma sei tu che fai? fai le pavere sì, non volevo provare troppo questa cosa questa cosa fantastica così allora ragazzi allora innanzitutto mi auguro cos'era questo un mix tra una nave e un cavallo cos'era? una... no perché però è soltanto un mesetto dai ragazzi un mesetto di ferie un mesetto dove tutti ci riposiamo un mesetto dove noi comunque continueremo a lavorare per voi sappiatelo perché comunque continueremo a lavorare per voi le nostre testine sì 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 no adesso no fermate fermate che fermate oh non te se sente fai così guarda tu fai così no perché così mi sentite? sì adesso sì adesso sì adesso sì ecco allora io ti stavo dicendo che non è vero è un bugiardo perché è più di un mese che dice basta mi sono scopato con ste live questi mi hanno rotte le scatole guarda 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 cioè veramente ragazzi voi mi conoscete adesso se cioè ma chi ti conosce ma cosa vuoi ma cosa ne sai tu della mia vita ma cosa ne sai ma non è vero ragazzi mi mancherete ecco infatti proprio bene no non è vero ragazzi mi mancherete tantissimo per insomma ci riposiamo ci riposiamo un po' tutti quanti ciao Daniela ciao Dani rimettiamo un attimo le idee le comunque come vi dicevo continuiamo a lavorare per voi per darvi sempre delle live di qualità perché è giusto che voi che ci seguite come riscontro abbiate da parte nostra delle live di qualità con dei contenuti carini divertenti che vi permettano comunque di avere tante idee di mettere a frutto le vostre le vostre idee e farci vedere le vostre creazioni sia di sim che di build quindi insomma tanta rubetta work in progress ma che l'anno prossimo arriverà e sarà insomma bello pieno un anno vero Ale vero Niki eh sì esattamente ok perfetto allora questa sera contest ragazzi l'ultimo contest della stagione di questo anno di live è stato intenso manca veramente pochissimo al raggiungimento dei 600 follower ma sono sicuro che col nuovo anno lo raggiungeremo senza problemi in modo che poi da lì cominceremo proprio alla grande con tanti altri ovviamente così interessanti dicevamo contest contest il contest penso forse più semplice che poteva esserci niente regole se non una il lotto 40 per 30 cioè raga se poteva sbagliare vi abbiamo chiesto di fare gli abbiamo chiesto di fare una palestra un centro sportivo insomma un qualcosa per mettersi in forma perché perché comunque è arrivata l'estate è arrivato il momento di sfoggiare le muscle della prova costume voi siete pronte per la prova costume Ale tu sei pronta per la prova costume ma figuriamo tu Niki sei pronta io sono pronta per la prova cappelletto adoro adoro io pure voglio fare quella di prova la prova cappelletto ragazzi voi invece in chat siete pronti per la prova costume altro che gli mancheremo secondo me quando arriva il buffet al matrimonio si dimentica di ok no ma guarda Tony c'è manco bisogno di arrivare al buffet al matrimonio già come metto piede in Italia al primo autogrill mi sfondo te lo dico considerando che niente consumi solo quelli di carneale fate gli auguri per lucca fatemi gli auguri per lucca auguri nonna auguri ma perché c'ha lucca comics ah è lucca comics ah ok ok ma per cosa lucca ok va bene perfetto ma che ve frega del costume ma che ve frega buttate l'armare fate l'armare ma si tutti a armare tutti a armare a mostrare le chiappe chiare tiè senti qua no allora dai non fa quella faccia che diaverità che tu vai ai spiagge nudiste vero Alessa no guarda io ho porto quel costume pure intero però cioè voglio di cioè siete mai andati in una spiaggia nudista no ma no ma anche solo così no perché mi sarebbe un po' schifo vedere i batacchi dei vecchi lo dico sinceramente allora eh Tony Tony ci ha dato sì brutta esperienza il costume intero costume intero non mi piace vero esatto anche perché insomma per via della forza di gravità scende tutto giusto sì ma amore anche le signore scende tutto praticamente ma fa un po' ribrezzo un po' vede ecco queste cose qua però mi viene da ride perché in realtà ci sono delle spiagge anche vicino Roma c'è una spiaggia eh tra Ostia e Torvajanica che è l'Osti Naturista eh e si trova proprio accanto alla spiaggia una delle spiagge più famose sul litorale laziale che è il settimo cielo e il Mediterraneo che sono due ehm ovviamente stabilimenti ehm molto friendly e tra quello e e un altro questa Osi Naturista dove giustamente come ci ha detto Alessandra e come ci ha detto il nostro Tony diciamo che è frequentata da gente che ormai non ha più secondo me il senso del pudore ecco diciamo così che è molto libera no non è il senso del pudore è molto libera ok però nel senso io non non faccio così perché mi fa schifo quello che fanno assolutamente no no nel senso che quindi la nudità dell'uomo è una forma di anche perché in realtà anche perché in realtà però mi fa senso cioè vede questi corpi flaccidi che per carità ce l'avevamo tutti però io al massimo vedemi marito ecco e se alcuni corpi non fossero proprio flaccidi ciao Lori beh aspetta cioè nel senso se ci stanno solo strapighi mi cambia la versione voglio dire vedi Alessandra vai dire no why not why not esatto esatto c'è ho sempre il problema col microfono la sessi era giovedì sì 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 ma infatti ora ritorniamo ritorniamo allora ragazzi io direi adesso prendiamo andiamo in gameplay e cominciamo a vedere le vostre meravigliose strutture le vostre meravigliose palestre quindi insomma noi facciamo un press un press siamo sei sì siete siete stati un po' pochini pensavo magari essendo così semplice senza troppe regole eravate più numerosi mi immaginavo che avete partecipato molto di più a contest più complicati posso dirlo cioè va bene però va bene però va bene va bene insomma prossima stagione solo contest con miliardi sì assolutamente ma secondo me è un po' sadismo questo cioè più sono difficili e più gli piacciono forse questo era troppo semplice dobbiamo dobbiamo ragionarci su sta cosa va bene andiamo andiamo direttamente al gameplay andiamo 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 bello voglio eccoci ecco le nostre palle guardate quante palle quanto siamo arrivati due 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 ecco no vabbè let's go fisico fisico un po' ogni 80 un po' i nostri anni è una cifra ogni 80 questa un po' così un po' così la musica non c'è musica no non c'è musica non c'è musica no ma le facce ragazzi è certo è certo è certo è certo è certo meraviglia sì picci grazie la nostra picci picci farà ovviamente il sondaggio per quanto riguarda i vostri voti vi ricordo che i voti i voti guarda lui guarda lui ma sono tonici mamma mia adoro adoro sai che staremmo tutta la sera a guardare video sì perfetto mo volevo guardalo lui conventissimo sì no ma anche lei non è che mi sembra proprio lei pare quella dei ricchi e poveri ho detto che è un po' Jill Cooper l'avevo detto dicevamo comunque allora intanto andiamo a New Crash andiamo a New Crash dove c'è ovviamente lo spazio adatto questo qui e allora avevamo detto le regole bisognava fare ovviamente una palestra un centro sportivo insomma qualcosa dove ci fosse del fitness potevate ovviamente includere all'interno la piscina il centro benessere insomma quello che volevate però l'importante è che ci fosse una sezione che fosse proprio dedicata alla palestra ok poteva essere fatto anche con il gioco base perché fortunatamente anche nel gioco base c'erano gli attrezzi per la palestra quindi insomma abbiamo pensato a questo di contest perché tutti quanti potevano ovviamente partecipare per quanto riguarda ma perché qui c'è persone che abitano qui vabbè non lo so a me il gioco va vivete vita propria e non lo so qui che era un lotto per lei c'è sta sta saito boh non lo so che c'ha una bambina non lo so vabbè ci c'hanno persone ma nelle stanze di no non erano le stanze Disney era un'altra cosa vabbè comunque non lo so erano le stanze dei semi zodiacali qui bianchi vabbè ok perfetto perfetto dicevamo il gioco ti riempie perché ti vede che c'hai un'impostazione per cui quando ci sono i lotti vuoti vengono riempiti eh sì 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 succedeva anche a me infatti infatti mi dobbia sfratta sempre gente è tutto uno sfratto da me sfratto sì il gioco sì sammi il gioco di fede è tutto strano fa tutto da solo sti costumi dei ballerini mi hanno sempre fatto ridere vabbè madonna guarda come sgambettano è altro che è del parisi è altro che è del parisi allora potete sapere quando ero giovane sono ridicoli vabbè aspetta adesso sono ridicoli all'epoca erano erano nostre ma i maschi con quelle tutine fanno ridere i femmine no vabbè comunque comunque ieri ieri sera che ti raccontavo che c'era uno vestito col costume da borat ti dico solo questa e la bandiera no vabbè sulle spalle ho visto delle cose ai ragazzi che voi umani solo qui il bello di sto paese è che puoi veramente essere te stesso e metterti quello che te pare va bene detto questo partiamo subito dovevate caricare 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 un po' un po' in calabrese caricare esatto guarda lui ma guardate attenzione no me fanno ride te fanno ride sono brutti guarda la fame ecco dai sono bruttissimi brava è l'home calabria e dovevate caricarlo con l'astag simmers gym come un pi stasera bravissimo hai visto sono preparatissimo bravo ma com'è non lo so ti hai svegliato la fine io mi hai svegliato la fine c'è stato un anno dove non ho capito un cazzo un anno dove non ci ho capito una mazza mentre poi alla fine tutto insieme allora 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 con chi partiamo cominciamo subito innanzitutto andiamo a aprire la galleria eccole qui c'era sì personale personalizzato contenuto personalizzato sì fefi la nostra prima la nostra fefi mi scusa tu volevi essere lasciata per ultima se ho capito bene si aveva scritto Emiliano mi pare sì anche l'ha scritto su facebook ah ok ok ovviamente io i miei voti te li mando ah no aspetta ha detto non cambia ci sono ah ok ah forse perché magari pensava di non fare in tempo non pensavi di esserci ok allora quindi ti vado per la seconda allora cominciamo subito con la nostra fefi eccola qui eccola qui e andiamo a collocare il lotto a mobiliare no residenziale no che devo mettere palestra eh è palestra palestra è palestra palestra è palestra eh dicevamo le regole non erano tante erano molto semplici potevate fare fondamentalmente quello che volevate se non eh per il fatto che l'unica cosa che vi chiedevamo era di avere una struttura originale cioè nel senso che non fosse un qualcosa che avevate già pronto ma bensì eh che la facevate proprio da capo ovviamente non possiamo controllare confidiamo sulla vostra onestà assolutamente ma io sono guarda sicuro al mille per mille che sono stati onestissimi e hanno hanno ovviamente fatto la una struttura ex novo allora cominciamo subito wow che bella palestra che figlia condividi ah si I'm sorry 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 thank you thank you allora cominciamo una palestra molto green vedo anche perché un sacco di pannelli solari benissimo con tanto legno tanto verde anche intorno con tanto di parchimetro guardia ce la godiamo proprio per bene guardiamo tutto l'esterno tranquillo dattino guardate che bella io ho iniziato a fare la festa per il troppo eh eh beh è bella è bella guardate che bella questa piscina mezza coperta mezza all'aperto bellissima 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 con i lettini grande proprio con i lettini così è stupendo poi ecco vedi ovviamente non ha lasciato nulla anche nel retro comunque ha messo anche dei dettagli anche ad esempio l'idrante il tombino che uno tante volte non ci pensa ma sono comunque dettagli importanti perché rendono la build ancora più realistica tutta la parte sopra anche questa cosa un po' obliqua così con l'insegna molto molto entriamo all'interno entriamo all'interno allora vediamo se c'è ok no il sotto è soltanto una questione delle piscine ok entriamo all'interno tiriamo sui muri perfetto ok allora qui all'interno abbiamo la recepzione molto carina molto realistica molto bella sì bella anche la scelta dei quadri sì 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 time to relax giusto questi sembrano le cose proteiche hai visto quelle cose che vengono in palestra integratori queste cose così mi piacciono molto qui abbiamo ovviamente la zona quella dove c'è se ferma un attimo magari che ne so che aspetti la consulenza per andare in palestra mi piace tutto questo verde che hai inserito mi piace molto molto sì poi dalla receptions andiamo andiamo di qua andiamo andiamo di qua e abbiamo una prima piscina coperta molto bella molto bella sì mi piace molto molto bella questa un po' più privata un po' più rilassante magari che ne so per fare dell'acqua gym ste cose così sì idrobike ste cose sì sì mi piace mi piace molto poi con gli schermi ciao Marisol ciao Marisol benvenuta ciao Lorenzo ciao ora che è uscito l'argomento è vero che l'aeroporto di Catania ha preso fuoco sì ahimè purtroppo sì e infatti hanno dirottato tantissimi polini speriamo insomma comunque pure qua vicino da me a Ciampino è tipo scoppiato un magazzino infatti quando è stato venerdì no sabato siamo dovuti stare con le finestre chiuse perché arrivavano arrivava la puzza ma a un certo punto io c'era con le finestre aperte ho cominciato a sentire una puzza tremenda ho detto qua sta bruciando qualcosa è infatti l'aeroporto non vedevo niente poi mi hanno mandato un messaggio ho chiuso tutte le finestre è infatti l'aeroporto l'aeroporto poi proseguiamo proseguiamo qui c'è una zona yoga che bella wow questa proprio super 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 relax questa super relax cioè relax pure proprio senza far niente così basta che entri qua mi piace bella la fontana che è stata inserita qui per sai quella che fa il rumore dell'acqua no? anche quello molto rilassante bellissimo sì sì poi ovviamente questo effetto green ci sta tantissimo poi fuori c'è la zona bar dove magari si può mangiare fare un piccolo spuntino molto bello molto bello questa zona lounge bellissima mi piace veramente tanto e torno a ripetere mi piace tantissimo questa cosa che hai fatto Fede con gli specchi e le piante bellissimo mi piace tantissimo anche a me lo sai bellissimo mi piace veramente tanto 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 proprio brava andiamo oddio andiamo andiamo momenti vado andiamo al piano di sopra andiamo al piano vabbè Fefi ricordiamolo che c'è un canale youtube assolutamente stop motion quindi è brava è molto molto brava assolutamente assolutamente sì sopra abbiamo allora qui c'è un bagno con una questa è comunque una palestra molto molto lussuosa devo dire perché è molto molto privata secondo me questa mi sa privata mi sa proprio di quelle palestre dove tu vai hai l'allenamento solo privato cioè non è che faccia la palestra così è vero è vero ci sta cioè che vai col personal trainer che cioè molto delit molto delit qui è una zona massaggi ovviamente ci sta mi piace molto questa è molto bella mi piace tantissimo poi qui abbiamo diciamo la sala pesi quella dove poi però vedi è una cosa molto molto elegante molto chic mi piace tantissimo sì 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 molto bella molto molto bella poi qui abbiamo una zona sempre riservata tipo il solarium una specie di solarium no una zona con relax assolutamente questi fanno più relax che palestra secondo me sì sì quindi è molto bello e qui c'è un disimpegno molto bello e sopra c'è il tetto oddio scusate se andavo troppo sotto fuori invece passiamo ovviamente dalla zona qui da qui si passa e andiamo nella piscina abbiamo una piccola piscina bassa molto bella fa questa infatti questa idea è meravigliosa ciao Chiara i lettini sì 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 la piscina si sì l'abbiamo fatto sì sì bellissimo non è difficile da fare mi sembra che una volta anche il live l'abbiamo fatto vedere come si fa quindi se vi capita rifatelo perché è una cosa molto carina e poi c'è la piscina ovviamente come si fa che fa poi lo faremo rivedere poi ve lo facciamo rivedere Marisol ve lo facciamo rivedere nella nuova stagione tanto torneremo con tante cosine interessanti sì non spoileriamo troppo ma tanti nostri ragazzi hanno capito assolutamente io amo da morire queste sedie so bellissime io le trovo veramente stupende molto belle sì e quindi questa è la piscina ovviamente coperta perché magari se dovesse all'improvviso esserci un'acquazione almeno insomma è coperta però con il cristallino in modo che comunque gli agi del sole possono passare uno si può abbronzare basta che però non faccia effetto a formica quello che tipo effetto pure che te brucia capito il raggio del sole che te da fumare dei fuoco e via però molto bella devo dire molto bella molto originale molto dettagliata brava fede brava brava fede anche molto realistica anche molto realistica sì 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 ricordiamo è un po' privata un po' lussuosa molto lussuosa però ci sta assolutamente mi piace questa interpretazione che ha avuto federica di questa di questa palestra vai picci picciò vai col primo sondaggio le sondage le sondage perché tu sei scandalosa spregiudicatamente tu sei alessandra scandalosa tu alessandra scandalosa alewanda alessandra alewanda la scandalosa alewanda giustamente no molto bella mi piace mi piace molto mi piace parecchia non ricominciamo perché tu sei scandalosa mentre tu spregiudicatamente tu cerchi un nuovo scoop tu lo voglio di più sono la vera scandalosa eccola eccola senti Emiliano non è possibile che tu abbia freddo boh io non c'ho il condizionato Emiliano cioè stai male voglio dire io continuo a ripetere che Emiliano non ha del sangue ma Emiliano gli scorre l'acqua ne l'acqua ne l'acqua 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 de ne 5 5 brava fede brava brava però c'è anche da dire che io quest'anno raga non ho sofferto per niente il caldo cioè io sto senza condizionatore adesso vabbè però aspetta adesso qualche settimana fa dai però vabbè io sono stata anche a casa col condizionatore c'è da dire ok però cioè rispetto alle altre stati che ho passato raga io cioè stavo malissimo alle altre stati mucho calor beh io vi dico noi siamo usciti adesso vabbè sto in canottiera perché sto in casa ma noi siamo usciti e a portafuori i cani stavamo con le felpe si confermo c'è con il giacchetto con le felpe stavamo no perché Tony non ha potuto votare dovete quando è così se vi è rifresciato oppure chiudete e riaprite subito che magari vi vi si cosa il il sondaggio allora passiamo alla nostra prossima concorrente che è la nostra Sammy vai Sammy oh ci picchia guarda in quanti te l'hanno scaricata è in 88 è parecchi proprio vai allora collochiamo le lot a mobileat le lot a mobileat ma si pure qua non fa caldissimo comunque eccola eccola ecco wow wow ragazzi e guardate che popò di palestrona wow allora fatemi fare un po' un leture leture esterno vediamo un po' che bella la struttura è molto bella la struttura è pazzesca ma che figata poi un sacco di roba un sacco di attività c'è tanta roba se si può fare in questa palestra ma guarda che bella brava brava la nostra Sammy anche qui molto ecologica brava ci piace dobbiamo pensare ovviamente all'ecologia ed entriamo 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 all'interno di questa mega super meravigliosa palestra e abbiamo subito all'ingresso la reception come giusto che sia ci sta assolutamente eccola qui bella vedi poi con tipo questo magari poteva essere un film però potrebbe sembrare sai quei manifesti tipo fitness fai sport ste cose così quindi mi piace tantissimo brava ci sono queste palestre che hanno ste scale aperte che sotto ci mettono le piante così ma vi siete entrambe ispirate a qualcosa che avete avuto modo di vedere dal vivo chiedo anche agli altri che magari hanno partecipato qui c'è ovviamente la caffetteria e ci sta assolutamente molto 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 carina mi piace bella anche la scelta di queste serie sono particolari mi piacciono poi di qua abbiamo allora qui c'è una zona per il benessere tipo spa ok molto luminosa molto mi piacciono i colori bella la scelta dei colori assolutamente questa spa questa zona spa bella con eventualmente il bagno per che ne so se poi si fanno dei massaggi delle cose si vogliono rinfrescare cioè il bagno molto bello mi piace poi 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 anche qui cascate cose per relax tu immagina te fanno un massaggio ai piedi e senti sottofondo il rumore dell'acqua che scorre pensa quanto relax madonna ragazzi da morire adorerei adorerei ciao elisabetta ciao 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 poi abbiamo di qua la piscina brava la piscina bella sì 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 però c'è da dire che Sammi non builda mai in lotti e no eh no infatti infatti è venuto benissimo brava giusti gli spazi giusto un sacco di cose mi piacciono tantissimo poi andiamo al piano superiore allora al piano superiore abbiamo la palestra quindi proprio la zona pesi beh rifornitissima sì sì poi vedi con con tutta la la cosa sempre eccetera eccetera pure questa per VIP ovviamente sì sì beh certo allora poi qui abbiamo una ok aspetta qui c'è la sauna che bella sta sauna bella molto bella bellissima e ovviamente c'è tutta una zona dove puoi prendere appunto i prodotti lo sai che in molte palestre anche qui hanno ormai adesso tendono a mettere l'angolo dove tu puoi prendere le bibite automatiche sì 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 che sono comprese ovviamente nell'abbonamento e tu puoi prendere la bibita quindi mi piace questo angolo mi piace anche la scelta di mettere degli attrezzi colorati da un po' più devita secondo me bello anche l'angolo con tutti gli specchi da qui ci si affaccia ovviamente anche nella parte esterna mi piace molto molto bella poi abbiamo qui abbiamo uno spogliatoio e il bagno molto bello carino brava 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 e qui ovviamente abbiamo invece proprio la zona massaggi quindi sotto c'è la zona quella più per manicure pedicure queste cose qua e invece sopra abbiamo proprio le massage sono molto bella si massaggia si massaggia sopra c'è il tetto abbiamo visto esterno andiamo a vedere l'esterno l'esterno sono nella zona massaggi tu solo lei ci prende proprio la residenza nella zona massaggi allora qui fuori c'è tutto il solarium c'è una vasca di massaggio mi fa male qua non lo so c'è tipo un gra non lo so ma che sei affatto e non lo so mi sento brucia qua ti sarai graffiata poi c'è questa questa piscina esterna tipo termale bella mi piace al massimo qua ecco al massimo mi piace questa cosa mi piace andiamo lì subito proprio mi piace che l'ha fatta cioè rialzata nel senso bella sì 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 mi piace molto questa cosa qui non so mi si era tolto il colore qua ecco così sì infatti era uguale dall'altra parte poi mi piace tutta questa zona qui dove si può fare dello yoga all'esterno quindi comunque sotto il sole mi piace tanto mi piace tantissimo e poi abbiamo la pista di pattinaggio ragazzi che è una figata cioè mi piace un sacco è troppo figa sì perché almeno insomma sì non solo come palestra bella idea infatti mi piace molto mi piace molto questa come idea e poi magari sai mi immagino che ci puoi fare anche che ne so della danza o altre cose altre attività quindi insomma brava bella idea molto originale bravissima brava Elena devo dire veramente molto molto carina una bella palestra bella la struttura ricca anche di di attività e questo insomma è importante quindi quindi possiamo votarla che dite oh yes possiamo votarla allora picci piccina piccio picciolina piccio picciotta allora 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 vediamo un poco ecco qui perfetto perfetto no molto bella mi piace mi piace e poi leggi su whatsapp sul gruppo per favore sì aspettate che mi sono perso dove è ok no un po' ok perfetto mentre aspettiamo il sondaggio magari possiamo sammy ha chiesto se la vogliamo far vedere di noi certo certo oh beh bella qui eh che figata figata no ma la struttura è bellissima la struttura è molto bella 4 brava sammy brava sammy dai brava mi è piaciuta tanto questa devo dire sì molto bella bella originale insomma una bella struttura poi di notte anche fa un certo effetto assolutamente molto bella brava 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 la nostra sammy bravissima allora prossimo 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 la nostra erminia ermi ermi vai ermi vediamola vediamo immobilata e insomma ragazzi mentre si carica vi chiedo cosa farete di bello per questa estate aspetta ma l'ha messa al contrario come l'ha messa ah sì vabbè ok mazza che bella ermi allora vediamo però la nostra ermi brava che carina ma che bella ma che bella brava molto bella bella mi piace molto molto verde oddio pure il singhiozzo molto verde bella brava brava mi piace mi piace mi piace allora entriamo dentro andiamo a vedere l'interno vediamo l'interno allora arriviamo qui allora abbiamo subito una reception ok eccola qui c'è c'è assolutamente poi abbiamo un angolo relax anche questa è una palestra VIP io vedo tutte palestre VIP frequentate palestre VIP ragazzi sembra più sembra più un circolo privato quasi no bella dai molto molto bella poi saliamo al piano superiore sì bravo un circolo privato un circolo privato con il microfono spenso sì sì no ma infatti vedevo dico lei i mimi praticate un po' così così tra un po' vediamo che fa allora anche qui un altro disimpegno ovviamente molto elegante peraltro adesso no che è successo il colore forse Ale santo cielo no fate una cosa fammo così guarda fammo così allora ciao quando fate i build i cavoli vostri che volete pubblicare fate come vi pare quando fate i contest vi giuro dal prossimo guarda da settembre l'unica regola no è il rosso se c'è il rosso questo mettetevelo bene in testa quindi chiunque partecipi ai nostri contest e io vedo una punta di rosso nelle vostre build nei contest io vi metto uno lo dico ok però potremmo stare in un contest solo di una casa rossa secondo me secondo me bisognerebbe fare un contest così diamo libero sfogo ai ragazzi e poi dopodiché vedrai che non ne vanno più il fienile rosso ha un senso perché esistono cioè nel senso ci sono i fienili rossi ok e vabbè e vabbè qui abbiamo il tappeto rosso un amore che non posso io infatti ho molto apprezzato e non dico niente perché l'ha fatto Ermi questo io voglio bene quindi solo verde per me esatto se mettete il verde io vedo 5 fai una casa pure brutta schifosa ma la fai verde e la ti da 5 a posto sì ma volete mettere il verde con il rosso cioè il verde è un colore distensivo rilassante fa pensare alla natura il rosso ti mette agitazione è passione cioè ti mette però 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 ricorda il sangue sulle pareti schizzato donna a me ricorda il mcdonald ecco che mi stai a dire che voglio no il rosso sta male con tutto però però guarda però ti dico guarda che brava perché nella zona relax spa guarda che differenza qua così ampio luminoso è bellissima fresco varioso puro bianco cioè bella molto bella sta zona sì sì vedi qua puoi fare le mani qui puoi fare i bagni di fango credo che sia Alessia penso che nelle palestre vere usino del linoleum nero ah c'è anche la zona unchi sì 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 bella bellissimo anche perché non so se Erminia ha il pack della spa oppure se è in legno forse è molto bella è molto molto bella no no mi piace mi piace tanto brava bella esatto poi ho laminato linoleum nero vediamo vediamo l'esterno eh bello l'esterno l'esterno mi piace molto molto carino molto molto carino non ce l'ha la cosa ah ok quindi si è reinventata la zona apprezzo apprezzo molto brava anch'io bello mi piace mi piace molto poi ha ricreato anche una zona proprio relax per le famiglie tipo terme sì tipo piccole terme guarda che carina molto bella vediamola anche lei di notte vediamo anche lei di notte vai bici intanto pari molto bella bella brava brava anche la nostra erminia brava 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 dai il rosso te lo facciamo passare però sei stata molto brava bravissima brava brava allora possiamo possiamo votare Alewanda possiamo votare e allora votiamo 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 amo 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 però cavallo curioso cavallo goloso cavallo goloso cavallo goloso te apposta cioè che peraltro io fino adesso ho visto solo palestre barra spa lussuosissime chissà se qualcuno ci ha fatto una palestra per i comuni mortali per chi non si può permettere di pagare una retta da 2000 euro al secondo eh la vogliamo fare me l'avete fatta o non me l'avete fatta però avete fatto delle cose molto belle mi piacciono anche le strutture sono molto molto originali molto belle bravi bravissimi veramente quattro brava 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 ma chi va in palestra se è povero sì infatti ci avete ragione pure voi proseguiamo chi c'è dopo la nostra erminia siamo marisol 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 gym spa e relax andiamo va andiamo andiamo allora ragazzi sono curioso di sapere io ne volevo fare con un stile Bronx ma non l'ho finita allora vi promettiamo che dal prossimo anno come escono i contest vi diamo il tempo giusto quindi mi raccomando vogliamo vedervi belli partecipativi allora dicevamo ma noi lo diamo il tempo giusto certo che durano tre settimane quello è vero quello è vero ammobiliato allora nel frattempo io voglio sapere dove ve ne andrete per agosto in vacanza in vacanza qui un'altra un'altra palestra un'altra palestra per disgraziati ecco qua wow un'altra palestra per disgraziati un'altra palestra per morti de fame praticamente regalo ma è meraviglia cioè veramente tanta ma io qua ci andrei tipo subito esatto ma mi metterei a far palestra pur di entrare qua dentro capito ma che meraviglia bellissima allora voglio sapere dai voglio sapere ma sì Ale ma sì ma non è problema insomma va bene no vabbè ma sì assolutamente Tony dai dai ma noi giochiamo diciamo che questa è una cosa che va presa per relax quindi se si riesce bene insomma voglio dire l'importante è che stiamo insieme questa è la cosa importante allora vediamo un po' qui che cosa abbiamo a disposizione madonna io qua ci andrei subito eh Mario come si chiama il triathlon 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 sì triathlon triathlon ok ho detto giusto qui ci puoi fare col nuoto ti fai tutto un percorso intorno alla alla discina io ci andrei raro qua che bella così allora vediamola la struttura è molto bella molto dinamica originale originale assolutamente sì ricca anche qui di dettagli di bella molto bella brava bravissima vediamola anche qui di notte va così vediamo subito vedi volevo far vedere pure quella di Federica di notte bella anche qui eh quel bel effetto anche di notte molto bella bellissimo molto 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 bella brava bravissima riaccendiamo le luci e giorno fu e giorno fu allora entriamo entriamo in questa palestra addentriamoci nei meandri del fitness allora entrando abbiamo subito una recepzione la recepzione eccola qui ecco che bella oh guarda vedi che ci ha messo che cos'è questo non mi ricordo che cos'è targa informatile sì informatile senti io informatile 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 targa informatile in stile onsen molto carina molto molto carina una bella recepzione è di carina bella anche qui c'è l'angolo ovviamente relax molto bella è molto molto bella poi di qua abbiamo lo spogliatoio per le signore infatti vedete ci sono anche il cellulare rosa molto carina molto molto bella anche qui molto lussosa rende proprio poi qui abbiamo un bagno sì ok perfetto ci sta è carino poi andiamo al piano superiore sì e abbiamo ovviamente la palestra qui c'è sempre un angolo dove ci si può accomodare un attimo per prendersi perché la palestra è anche social quindi insomma le persone vanno anche a socializzare sì sì toni qua sono molto bravi perché facendo i contest tutto l'anno questi si allenano è certo vedi ognuno ha il proprio spazio con l'asciugamano gli attrezzi qui c'è tutta la zona dei tapirulan molto bella e di qua c'è la zona con per la box se non sbaglio sì per la cosa della box per l'allenamento e qui invece c'è la macchina per tutto il resto bellissimo anche qui molto bella questa cosa con anche qui molto green eh devo dire sono belli i colori poi abbiamo fuori questo terrazzo che permette appunto di rilassarsi all'aria aperta magari con i profumi delle piante eccetera eccetera c'è anche una zona per prendere del sole questa è la palestra de sorro piena di piante piena di piante piena di piante de piante de piante le piante le piante possiamo andare in palestra e sederci sì assolutamente certo ovvio why not a domani lo facciamo a domani ci iscriviamo solo per metterci seduti assolutamente esatto sì ma io in questa palestra però voglio andare certo ovvio poi qui abbiamo sempre un'altra ah ci sono due ah beh sì giusto perché c'è un'altra mi sto a perdere un attimo quindi siamo saliti da qua perché qui sotto c'è la reception ok perfetto scusatemi ero un attimo perso poi abbiamo questa la zona sala pesi dove c'è tutta la zona qui anche per il fitness poi abbiamo una zona bar per molto bella per rifocillarsi perché giustamente che fai un cannolo siciliano dopo che hai fatto ovviamente la palestra why not no ecco anche qui la parte esterna anche molto carina molto molto carina mamma mia poi abbiamo qui un altro un altro bagno con delle docce eccolo qui e poi abbiamo questa zona per tipo la box queste cose qui forse un po' più riservata magari per le lezioni private ecco queste cose bella molto bella poi da qui ci sono anche le macchinette vedi per per prendere molto bella poi da qui scendiamo e andiamo in un'altra zona che è la zona spa nella zona spa bellissima noi abbiamo appunto si scende qui c'è mi piace molto che sia separata la parte esterna che c'è sia qui che c'è proprio tipo termale l'acqua termale molto bella e poi qui abbiamo proprio la piscina comincia tutto il percorso con la piscina molto bello molto molto bello anche qui questa piccola zona zen per lo yoga molto bella poi 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 rientrando abbiamo qui la la parte per fare il pilates sono carine queste questi tappetini così sì ma sono proprio belli perché poi ci stanno un sacco di colori il primo colore magari è sempre quelli neutri così poi invece si trovano un sacco di colori molto belli sono bellissimi sono proprio belli perché io non cioè insomma non costruendo tanto però sono belli molto belli sì perché poi quelle cose fighe le mettono ovviamente sempre alla fine bella anche la scelta del quadro questo qua a Ricky grazie grazie per il follow grazie a tutti benvenuto benvenuto benvenut grazie ciao poi poi qui abbiamo altri due bagni uno per i maschietti e uno per le femminucce ottimo ovviamente ottimo e poi qui abbiamo proprio invece la zona massaggi zona massaggi con la zona per le unghie massaggi ai piedi eccetera eccetera molto rilassante devo dire molto 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 rilassante guarda che bella l'idea di questo murales che bello meraviglia che è stato fatto con questa è la serranda che ovviamente ci si possono mettere tutta una serie di murales sopra ma io non l'ho mai vista è con è questa questa qua tela comunitaria ed è questa qua sì ok sono bellissime mi fa vedere la prima immagine questa ah questa sì pensa pensa te infatti tante volte uno non ci pensa a ste cose ed è molto bella ma c'è da dire che i cari amici di The Sims hanno riciclato un po' dei quadri tipo dove era tipo questo tipo questo tipo questo che in realtà sono i quadri l'hanno messi pure lì sopra però beh è carina come cosa molto bella mi piace veramente un sacco bello e poi qui abbiamo un altro bagnetto questo proprio piccolino per rinfrescarsi magari per togliersi che ne so l'olio la crema da dosso eccetera eccetera parte sotto no questa è soltanto la parte della piscina beh che dire ragazzi molto molto bella anche questa abbiamo visto fino adesso quattro 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 piscine quattro sì quattro piscine quattro palestre con piscine eccetera eccetera una più bella dell'altra devo dire veramente veramente complimentissimi complimentissimi assolutamente allora possiamo votare quindi partiamo no vabbè lui è meraviglioso lui fomenta cosa cosa è lui che fa ginnastica il secondo guarda il secondo eccolo questo questo è fantastico lui è fantastico meraviglioso un po' ballerino ecco quella dei ricchi e poveri felicità no che c'entra quella è un'altra no no sarà perché ti amo e vola vola si sa ovviamente Nicola queste cose non le sa perché ahimè Nicola è molto giovane quindi non le può sapere sono molto giovane ma mia mamma mi ha insegnato molto bene è insegnato molto bene brava voi me l'avete mandato il messaggio te l'ho appena mandato posso chiedere una cosa riguardo a horse ranch certo Lorenzo vai spara che qui cerchiamo di rispondere di rispondere a tutti sei riuscito Lorenzo a recuperare un computer ma quale ma quale ha 5 spogliarello 5 brava Mari brava brava Mari bravissima ma quale spogliarello no faremo una cosa molto carina molto carina che vi proporremo ovviamente al prossimo anno ma che prossimo anno mica vabbè prossimo anno nel senso nella prossima stagione nella prossima stagione perché noi a differenza della d'Urso non siamo stati cacciati siamo stati rinnovati però leggevo una polemica che secondo me è molto giusta e non ci avevo fatto caso ovvero che il buon Pier Silvio si ha licenziato solo cioè si è preoccupato di levare la parte trash femminile ma il trash maschile l'ha tenuto e questo è sessismo mio caro Pier Silvio eh già non so se vi rinnovo ma come ma ma il coraggio di questo uomo ma vattene cenci ma vattene non te rinnovo io a te vero baby io dico io dico solo una cosa apri e chiudo una parentesi il maschile sarebbe Alfonso Signorini il maschile sarebbe Pio e Amedeo e poi aspetta ma come figurate se l'ha proprio fatti entrare lì quando ha parlato della nuova programmazione ragazzi appunto io sinceramente non sopporto né l'uno né gli altri ma quello a prescindere del piacere personale io credo che non lo so boh allora posso dire una cosa dico solo una cosa così un pur parletra di noi per quanto riguarda la questione della D'Urso allora secondo me lei era arrivata a un punto che era un po' troppo ovunque tutti i giorni il pomeriggio le cose eccetera eccetera no aspetta aspetta volevo solo finire un attimo di sicuramente ha un approccio un po' così eccetera eccetera però però c'è da dire che lei prendeva tra virgolette tutta quella fascia di persone più sempliciote magari forse dovevano essere cambiati un po' le modalità dei contenuti forse più che altro questo io sono d'accordissimo sulle donne che ha mandato via ma doveva fare altrettanto con gli uomini beh sì certo è ovvio a parte che non sono simpatici per nulla e poi fanno delle delle battute sessiste e omofobe cioè per carità del Dio rinchiudeteli proprio io non li sopporto senti la prossima la prossima chi oh amore ermi grazie la prossima chi è e alfonso signorini non ne parlo nemmeno come alfonso signorini no esatto ma si è chiaro ah pensavo alla prossima alfonso signorini no ma non ha partecipato no 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 ma come posso dirvi una cosa forse sarò impopolare scusate ma basta con sto grande fratello basta mamma mia che sia vip non vip cose ma basta basta i reality basta allora chi altro ha mandato via ehm se è solo la d'urso ok eh aspetta qua oltre alla d'urso chi ha mandato via ha mandato via eh Ilari Blasi eh Belen mhm e poi chi altro ha mandato via dice che mo forse mo ce l'aveva un po' cottina cipollari e e poi non mi ricordo chi altro qualcun'altra no invece caro tattino perché adesso se la sta a prendere pure cottina cipollari non so se gli darà una sorta di mhm diciamo scossone una sorta perché ovviamente lavora con Maria e Maria per lui è intoccabile mhm ma ci sta perché comunque quella gli fa fattura a miliardi e miliardi raga c'è che figa questa cosa wow questa adoro che bella quella dell'insieme dei cosi eh sì 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 una magista cosa qui di usciamo insieme ci sono tutta una serie di di sigilli sì sì Maria Maria è salva Maria è salva per Maria il può continuare eh beh allora vediamola che figa sta palestra pure ragazzi molto bella che bella anche qui tanta robetta eh ragazzi no vabbè ma guardate le insegnate in un calpestare erba bellissima brava chiaretta bella anche questa zona esterna eh mi sa di un un edificio riconvertito cioè che doveva essere un edificio che inizialmente forse poteva essere qualcos'altro poi dopo perlomeno l'idea che mi dà un po' magari che ne so un un magazzino o qualcosa però mi piace molto mi piace come idea sì è vero molto pari Lalla no raga scusa aspetta interrompiamo un attimo la trasmissione perché Lalla ci deve dire se è maschio o femmina dai ah sì possiamo fare un pronostico votiamo tutti e lo chiudiamo subito ok cioè lo chiudiamo appena Lalla ci dice il sesso insomma vediamo chi ha vinto ok vai Vici fai un pronostico vai 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 di pronostico un piccolo minuto sì 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 una piccola tanto comunque vabbè intanto ne facciamo il pronostico poi quando torni ci dai va bene va bene ci dai la risposta ok vai ragazzi vediamo questa è la community che condividiamo brava Peppy tante cose belle ce l'hai ricordato cosa? Peppy ce l'ha ricordato ah è vero è vero è vero anche perché gli dobbiamo dare un aiuto sui nomi eh sì eh ragazzi ha chiesto lei il totonome il totonome il totonome ma io che faccio intanto faccio tour no? sì? no? aspetto aspetto un attimo aspetto un attimo aspettiamo il pronostico aspettiamo il pronostico angi nel frattempo io ve la faccio vedere ah vediamola di notte intanto vediamo così mettiamola di notte ma che belli che so sti lampioni comunque moderni belli? belli proprio belli sono di vita universitaria vita universitaria belli sì sì molto molto carini molto belli si piacciono si piacciono beh anche questa è una bella palestrona eh allora qui un po' più popolare qui abbiamo una palestra un po' più popolare sì un po' più alla portata dei tutti eh sì la zona basket è bellissima tutti noi chiede ma Jill Cooper di che si faceva per stare sempre a 3000 quando faceva le pubblicità degli attrezzi da palestra di media shopping nonostante i suoi 50 se non di più anni hanno o mo chiede non lo so non so non volemmo sapere sorvoliamo ma voglio dire qualunque cosa usasse la voglio anche io voglio essere così energico è massopronostico? non esce? PC? ecco è uscita ok ah eccolo cosa sarà? cosa sarà? cosa sarà? cosa sarà? maschio maschio io metto maschio vediamo vediamo eh tanta robetta eh ragazzi tanta robetta vedo che va vedo che va parecchio eh madò guarda come come vanno eh raga io ho 142 mila punti canale fatemi spende un po' guarda che mica scadono eh guarda allora se vuoi ti posso convertire in punti da cop grazie no da gonad da gonad vabbè ti converto in punti da cop madonna ma chi è che ha votato 23.560 punti sbate dranghete sbata dranghete non ha le dita veloci Alessandra attenzione ragazzi attenzione allora 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 Lalla allora Lalla sei pronta? ci puoi svelare? allora vai vai Lalla dici grazie Marisol anche tu io non ho un mezzo passio che hai votato Lalla dacci i punti vai Lalla maschio femmina dai vai 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 ci vuole una fede una fede auguri ho perso miseramente ma va bene auguri auguri tesoro auguri 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 adesso scrivici i nomi sui quali sei indecisa e noi ti aiutiamo assolutamente mentre vediamo vedi queste sono belle oh me si sono addrizzati i peli dei braccia dall'emozione auguri 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 allora quindi adesso sarà una sorellina maggiore avrà una sorellina minore piccola amore loro allora entriamo adesso continuiamo continuiamo con la palestra vediamo vediamo vai di palestra allora questa palestra un piccolo qui disimpegno dove ci sono i parchimetri e delle macchinette le macchinette magari per comprare le bevande energetiche eccetera eccetera poi entriamo c'è la reception eccola qui molto bella bello questo colore bello si mi piace anche la scelta del del tappeto per terra bello una palestra colorata un piccolo è vitaminica questa dinamica poi vedi con un sacco delle immagini delle attività che si possono fare si si mi piace vedi brava brava molto molto bella assolutamente poi vado di qua vado di qua spogliatoio qui abbiamo qui abbiamo il primo spogliatoio eccolo qui bello ci sta ci sta assolutamente quindi con gli armadetti allora scusate un secondo io ragazzi ho provato a vedere se lo potevo chiudere io ma non lo posso chiudere mi dice non puoi gestire questo pronostico perché ho votato quindi non posso chiuderlo o lo chiude Fede e come si fa a chiudere il pronostico qua bora eeeh niki credo che abbia hai votato si ho votato allora non può chiudere nemmeno niki lo deve fare Fede e come si fa aspettate eeeh allora allora guardate lo sta scrivendo Picci eeeh digita devi digitare eeeh slash prediction ma dove sulla sulla chat allora slash prediction guardate l'ha scritto proprio Picci dovresti riuscire a leggerlo ok l'ho fatto ok si dovrebbe aprire si e chiudi pronostico dovrebbe essere tipo una cosa del genere si ok dovrebbe essere stato fatto chiuso non mi pare no 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 non mi pare aspettate abbiate pazienza un attimino scegli il risultato e poi chiudi ah eeeh ce l'ho un po' aaaaaah pa 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 aspetta che c'ho eeeh no 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 aspetta aspetta che se no è un casino qua perché ce l'ho ridimensionato l'immagine capito aspetta un attimo ma riesco a vedere allora questo qua e no ma è stato fatto maschio femmina e devi scegliere femmina ah ok e poi iudi ok ah no è ripartito eh allora va bene dai no non si può fare aspetta adesso lo dovrei aver chiuso aspetta l'ho ripartito aspetta elimina elimina e rimborsa i punti ok l'ho fatto io e questo l'ho chiuso io ha rimborsato i punti eh sì tu devi fare quell'altro devi chiudere quell'altro questo l'ho chiuso io e quell'altro notte l'ho ri vabbè ma perché non si possono fare i sondaggi sennò si è aperto il pronostico sì no si possono fare i sondaggi sì vabbè dai tanti sondaggi si possono fare pure si è aperto ma si che c'entra no quello se tu chiudi il pronostico la gente vince i punti canale eh ma non ho proprio la più palliera vabbè l'ho chiudo dopo posso chiudere dopo eh sì vabbè dai chiudiamo dopo dai chiudiamo dopo lo fammo dopo che sennò qua siccome c'è tutto rimpicciolito tutto impostato è un casino sennò qua notte ale dai dopo dopo lo faccio dopo lo faccio allora proseguiamo qui abbiamo un bagnetto e ci sta proprio come negli spogliatoi quelli quelli veri quindi da questa parte immagino siano le femminucce e di qua abbiamo i maschietti infatti molto bello sul celeste dagli spogliatoi si va direttamente a questa scala che porta sopra e dove abbiamo un'area comune ecco vedi qui c'è la postazione dei personal trainer che ti fanno la scheda tutto quanto bello vedi sia di qua che di qua ci sta molto bella molto molto bella poi da qui notte nonna notte nonna notte nonna da qui abbiamo una zona per le unghie le cose i massaggi i piedi eccetera eccetera mentre di qua abbiamo la zona massaggi proprio e la zona ovviamente per fare i fanghi le terapie in acqua eccetera 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 poi invece sotto se si esce da qui si va direttamente invece nella sala quella pesi dove abbiamo appunto tapirulana le macchine per fare i pesi i sacchi da box eccetera eccetera mentre di qua abbiamo una sala per lo yoga piuttosto che il bella mi piace molto bella è un nome bellissimo romano tra l'altro bella che stai scherzando nome stupendo anche altologato molti dei dei romanord usano chiamare flaminia ma che stai scherzando guarda a corso francia trovi più flaminie che altro esatto poi qui abbiamo allora esternamente abbiamo la parete d'arrampicata bellissima che ci sta ma no raga un nome romano flaminia bello 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 poi vabbè che piaccia o meno quella è un altro discorso però insomma è figo come nome poi abbiamo le piscine quella più grande e quella più piccola con le docce che giustamente uno si fa la doccia prima di entrare che poi non ho mai capito perché però va bene ok intanto mi devo andare a bagnare quindi vabbè ma perché la pigna al massimo la pigna mi piaceva la pigna basta poi abbiamo i campi da basket sia da una parte che dall'altra ci piace magari quello per i bambini mi piace questa cosa dei campi da basket perché non l'ha messa nessuno finora e mi piace molto molto bella bello Ludovica pure mi piace anche la scelta alternata tra muro e cancellate quindi è molto bella anche questa brava devo dire veramente bello ci sono un sacco di attività senti come suonano Rachele Lucrezia troppo duri Flaminia è dolcissimo fai la doccia per regolamentare la temperatura che è uno shock termico ah vedi non lo sapevo ma io dico ma perché infatti mi sono pensato perché devo fare doccia prima vedi grazie ma chi l'ha detto mi fa fai la doccia per regolare la temperatura ed avere meno uno shock termico è molto bello che tiene conto mi piace mi piace mi piace bella 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 sta palestra c'è tutto suddivisa molto bene fammi Flaminia è un nome che si usa a Roma cioè a Roma è molto usato il nome Flaminia se il mondo mi ha sentito però a Roma è molto usato è unice Federica è unice Yunis Yunis bella comunque Yunis è molto bella mi piace è molto molto bella allora ragazzi io penso che possiamo votare quindi votiamo anche questa meravigliosa palestra quindi diamo di voto di voto votate ragazzi votate 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 bella è piena di di cose ci stanno un sacco di cose mi piace anche ci stanno gli spogliatoi bella mi piace anche questa molto molto bella fatta bene con lo spazio anche esterno devo dire veramente una bella palestra bravissima 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 cosa cerchi te di raspi le mie cuffie che ne so te con questi oggetti elettronici non so a che fine fai te lo sei perde tutto l'uomo che perde tutto è bella comunque state votando votate mi raccomando votate votate con saggiozza mi raccomando votate votate tre e no quattro 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 brava 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 bravissima brava brava chiara ed ora vediamo in bellezza con la nostra pepi ed ora chiediamo in bellezza vediamo con la pepi con pepi 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 ecco cioè ecco no non è pe niente per carità perché ognuno ha i nomi suoi però tu mi hai boicottato Flaminia ma Merope e Pervinca perdonami cioè sembrano i nomi delle sorellastre con tutto il rispetto per chi si chiama Merope e Pervinca mi dispiace Pervinca è il colore del mio abito sì infatti Pervinca vabbè a me mi fa pensare a Fight Club figurate Fight Club sì però è bello Pervinca è particolare però lo vedo molto cioè io penso che sono rare le persone che si chiamano Pervinca vabbè come le pare è uguale Merope Merope come le pare tanto non cambia la questione allora posizioniamo l'ultima palestra che è quella della nostra Pepe J. Lowe so perché quando te leggo il nome di Pepe mi viene sempre subito in mente Jennifer Lopez paraparam paraparam oh guardate che palestrina originale ragazzi mi piace tantissimo questa è la palestra di Wolverine la palestra di Wolverine ragazzi allora guardiamo esternamente vediamo beh oh ragazzi pure i nostri i lupacchiotti debbono poter questo è funzionante bellissimo sappiate che questo è funzionante è una figata sto sto bar sappiatelo è proprio bello è una palestra per teppisti dice Pepe bella ci piace bad guys è una figata guardate i dettagli poi tanta vegetazione allora siamo passati dalle palestre super chic e super ricche alle palestre dei teppisti ma vediamo sti teppisti come si allenano no? Tony dice finalmente una palestra da buzziconi da buzziconi bella ci piace allora Jim entriamo qui oh vabbè ragazzi bella 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 meravigliosa è proprio originale posso dirlo tra tutto mi piace questo è proprio quello che mi aspettavo sinceramente è bella qualcosa che spiccassi sì 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 no è stupenda è bella è bella è particolare bella è meravigliosa con il ring che cavolo sto facendo ecco con il ring con i graffi wow no vabbè è fantastica è veramente originale c'è da dire che è veramente originale ragazzi eh pepi cosa ci hai messo qui cosa sono queste fatemi vedere ah i coperchi copertura da schlock non pensate quando ha un buco nell'acqua ok sembrano le pizze quelle per i pesi esatto sì no vabbè no vabbè no vabbè ma anche le le palle messe qui su queste lampade che sembra tipo fungible bellissime bellissime no ma come è venuta per questa cosa cioè stupenda molto originale devo dire veramente molto originale ma poi il ring è così c'è sì 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 il ring è favoloso ragazzi il ring è veramente spettacolare poi allora aspetta andiamo qua qui abbiamo questo corridoio che porta gli spogliatoi giustamente bellissimi questi sono proprio gli spogliatoi classici con lo specchio rotto sì 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 bellissimo con l'acqua per terra bagnata per terra sì ci sta sì ci sta assolutamente questo è uno e l'altro quello sarà per le ferminucce beh le ferminucce vedi sono più hanno pure il phon sì vabbè ci sta sì sì bella questi sono gli spogliatoi poi abbiamo di qua ah vedi le cose per pulire no giustamente bellissimo giustamente beh una figata brava e al piano di sopra vediamo cosa c'è al piano di sopra ok no vabbè ragazzi no vabbè ragazzi no ma l'ha fatto lei l'ha fatto lei l'ha fatto lei con le luci ma va che roba quindi cioè nel senso quindi se io vado al buio di notte fatti illumina qui sul muro è illuminato no vabbè ragazzi meraviglia no vabbè no è geniale dai è geniale è geniale sei stata molto brava pepi sei stata molto brava queste cosa sono ah sempre sempre le luci le famose luci ingrandite o rimpicciolite dai guarda che brava ma vedete ragazzi insomma quante cose si possono e senza tool eh attenzione senza tool ma guarda guarda per terra il le crepe perché gli è caduto tipo un bilanciere sì 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 cioè vabbè dai è veramente bello è una figata brava bravissima poi qui che abbiamo vabbè qui abbiamo un bagno ok e qui lo il coso il del proprietario della palestra no bello sì proprietario della palestra sì 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 che mi sembra uno che c'ha la palestra ma perché la palestra gli serve per riciclare i soldi capito sì sì che comunque lui c'ha qualche cosa dell'osco di attività all'osca no vabbè è bellissima è parecchio bella brava veramente brava pepi hai fatto veramente anche un anche tu un lavoro stupendo originale 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 veramente molto 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 originale brava bravissima veramente brava 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 complimenti pepi beh ragazzi possiamo la scaricherò perché è meravigliosa te lo dico proprio bellissima possiamo che sta facendo lì con la gatta ma sta coi farfalline è bello anche il fuori sì no che poi la cosa bella è che da pepi non ti aspetti una struttura così eh esatto io me l'aspetto io invece sì me l'aspettavo che pepi mi avrebbe stupito che mi mandate i voti sì scusa mi ero preso da nel vedere i dettagli beh veramente molto bella molto molto bella bravissima bravissima bellissima bellissima è particolare poi no ma la cosa che sono state fuori c'è il bar fuori c'è il bar sì assolutamente eccolo qua sì ma poi vedi tipo che ne so una portrona un una sedia una vecchia un vecchio divano c'è roba no ma è carino scusate il cartello che non bisogna fare vietato ai lumi alla pipì vietato papi cinque brava brava bravissima brava pepi 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 indra hai finito il daga c'hai farfalline ecco che carina lei apre e chiude le poi il bello ce l'ha davanti non la vede quindi la cerca così ma sta lì davanti a far palla tonta niente non la può fare sto gatto allora 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 ragazzi allora che dite che dite che dite eccolo ecco io sono già pronta madonna sei prontissima io sì una pronta sempre sul pezzo Alewanda sta lì tun 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 allora andiamo cominciamo vai vado come on vai allora non ci sono pari meriti ok ok e allora al sesto posto troviamo con 16 punti la nostra ermi brava ermi bravissima bravissima anche lei è una bellissima una bellissima palestra una bellissima palestra brava poi al quinto posto con 16 punti e mezzo la nostra chiaretta brava chiara eccola qui anche questa palestra bellissima brava questa è più alla portata di tutti quanti ecco sì poi al quarto posto con 17 punti e mezzo abbiamo sammy eccola sammy fox 83 la nostra sammy la nostra sammy bellissima anche qui con una palestra lussuosissima sì scusa vai 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 poi al terzo posto con 19 punti abbiamo la nostra pepila brava la nostra fede anche questa bellissima una palestra lussuosissima proprio al secondo posto con 19 punti e mezzo abbiamo marisol 27679 bella anche questa ok palestra ultra 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 anche questa lussuosa e quindi immagino che al primo posto c'è la nostra pepi con 20 punti brava la pepi gelo bravi pepi complimenti complimenti veramente una struttura molto originale siete stati innanzitutto veramente tutte bravissime poi una live tutta al femminile perché hanno partecipato tutte femminucce sono femminucce solo femminucce quindi adoro perché è una live tutta al femminucce perché erano tutte belle comunque tutte quante hanno ricevuto voti alti non c'è stato nemmeno un 3 ve lo dico subito bravissime partiamo dal 4 in su quindi proprio bravissimi è una live girl power tutta rosa tutta girls tutta pink tutta rosa chi è entrato chi è chi è pronto chi è pronto 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 eccola è arrivata anche la nostra la nostra Eleonora la nostra Eleonora ma Emiliano invece dov'è? è in chat cosa c'entra? Nicola è troppo brava ho capito Emiliano sarebbe il caso che entrassi anche tu un attimo perché come ben sai ma non vuole venire no invece deve venire perché dobbiamo fare i saluti dobbiamo salutare la nostra community Roberto Cenci ti prego quindi Robertino Cenci mentre un secondo forza sì Pepe innanzitutto vi faccio i complimenti alla nostra Pepe che si è giudicata al primo posto vediamo poi appunto di mandargli un qualcosina alla nostra Pepe in modo che così la ringraziamo per aver partecipato comunque io ringrazio tutti quanti perché siete stati veramente meravigliosi che dire ragazzi ovviamente questa è stata l'ultima live per questa stagione dai mi entrai basta dai un secondo un secondo solo è per i saluti che salutiamo tutti i ragazzi della community intanto io comincerei con la nostra Nicole per quanto riguarda i saluti se volevi dire qualcosa che è stato un anno stra mega intenso e che sono veramente felicissima di aver visto tutti questi grandissimi risultati da parte della community nelle creazioni nei sim e quindi c'è tantissimi saluti stellari dalla tutta stella ovviamente Nicole la nostra Nicole tutta stella adoro 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 grande grazie grazie di cuore e poi ovviamente visto che è entrata con noi e tutto quanto c'è ovviamente anche la nostra Eleonoruccia Eleonoruccia amore io non ho sentito nulla di quello che hai detto no come non ho sentito le cuffie mi ha impegnato adesso Alessandra non ha le cuffie vi dico che l'ultima sera io mi licenzo no no ce l'ha le cuffie ce l'ha le cuffie ce l'ha buone vacanze divertitevi riposatevi riposatevi e soprattutto devono arrivare carichi no il prossimo certo il nostro cencino per piacere c'è c'è il nostro cencino può entrare un istante no no dai è sul letto coperto dovrebbe saperti perché con cinque coperte io non so io non so se il disagio lo ha lui o noi che ascoltiamo queste cose il fatto di sapere che va bene va bene comunque la temperatura è scesa sotto i 26 gradi sì certo adesso ne ha aggiunta sicuramente un'altra di lana perché al posto dei cenci comunque come come moderatori quest'anno prendo tony kate marisol pepi sammy tattino lalla erminia me più tutti al posto dei cenci al posto dei cenci famoso cenci e noi voi rimanete voi già c'è state in sostanza ecco senti ma noi lavoriamo di meno esatto e attenzione perché non ne sarei così sicuro attenzione attenzione non può essere che si triplica il lavoro può darsi che si triplica ma io ho avuto e invece vai Ale no no aspetta allora sì intanto allora io vi ringrazio tutti quanti perché siete fantastici e quando io e Fede abbiamo deciso di intraprendere insomma questa avventura tra il gruppo le live insomma tutto quanto non pensavamo mai saremmo arrivati a questo punto e quindi il merito è vostro ovviamente e comunque ci stimolate anche a proporvi nuovi contenuti ad andare avanti e niente basta se non mi commuovo vi dico che torniamo il 21 agosto ma non torniamo noi sul gruppo verrà pubblicato il primo contest della stagione quindi possiamo solo spoilerare se è Simmo Build aspetta non mi ricordo mi ricordo mi pare Build 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 quindi preparate scaldate i motori ovviamente io mi mi associo e mi collego a tutto quello che hanno detto ovviamente le ragazze scusa Emiliano tu ti ringrazia a me Federico in primis perché ti avevamo certo tu 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 devi ringraziare me e Nicole che ti sopportiamo ogni giorno ovviamente addirittura vedi 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 poi dice a me capito allora rientriamo con le live a settembre allora aspettate un attimo che faccio solo una cosa aspetta un secondo Ale che cambia un attimo la schermata eccoci così siamo un pochino più grandi ce ne eravamo piccini piccini picciò e si stavi dicendo che le live riprendono a settembre cioè pubblichiamo il contest poi voi avete tutto il tempo e la prima live e sarà sarà proprio no non sarà non te sento più non te sentiamo più mi sentite? si adesso si si ok quindi rientriamo e dopo qualche giorno faremo il contest a settembre a settembre si assolutamente la live e un'altra cosa ovviamente molto importante è che a settembre faremo questo appunto questo contest quindi ci saranno un paio di live a settembre poi ci sarà un'altra piccola pausa sempre per settembre e poi a ottobre si torna a pieno regime quindi comunque non vi preoccupate non vi non vi abbandoniamo anzi siamo sempre qui pronti comunque ci potete scrivere sia sul gruppo perché comunque vi ricordo discord vi ricordo facebook e instagram sempre di s4 vita vita da simmers quindi noi ci troviamo noi ci trovate cerchiamo anche di essere presenti sempre come si dice non mi ricordo chi aspetta non mi ricordo si 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 le carico le carico ha chiesto quando ci sarà la prima live sarà domenica 3 settembre si mi sembra di si si domenica 3 settembre comunque voglio far vedere una cosa guardate che bella la bronza allora allora dicevo io invece assolutamente si le carico carico anche le vecchie quindi comunque voi volete volete avete un po' di nostalgia le potete andare a rivedere sia qui su twitch che ovviamente su youtube dove trovate sempre le live euforia 1981 dove trovate anche sempre magari se vi volete intanto già riscaldare un pochino per i futuri contest che arriveranno soprattutto di build ma non solo potete guardare appunto i tutorial da Alessandra Rocello quindi della nostra Ale Ale One Ale Ale Sexy Bomba dove appunto trovate tanti consigli tante idee insomma veramente tanta tanta robetta che dire io ovviamente mi associo a tutto quello che come dicevo prima che hanno detto le ragazze vi dico un grazie un grazie speciale un grazie dal cuore perché comunque rendete oh Giovi vi rendete ovviamente queste live sempre sempre cariche di energia e sono io che vi dico grazie non solo per il supporto che mi date qui in live ma anche il supporto che mi date proprio quotidianamente perché come ho già detto più di una volta per me questo è il collegamento che ho che continuo ad avere con il mio paese per quanto io ami questo paese la Germania però non è il mio paese il mio paese è sempre l'Italia quindi per me voi siete il mio collegamento il mio cordone ombelicale con e quindi da lì io prendo la mia energia e la mia forza per andare avanti quotidianamente quindi sono io che vi dico grazie di cuore proprio vi cuoro come dice qualcuno vi cuoro tanto 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 e quindi non lo so qualcuno lo dirà quindi veramente grazie grazie veramente e che dire vi aspettiamo ovviamente sempre qui ah io voglio fare un ultimo ringrazio sì allora ringrazio ovviamente i nostri moderatori sì Emiliano Nicole e Eleonora perché sono sempre presenti nonostante la vita comunque ci sia con i rispettivi impegni però ci sono sempre vi voglio bene ovviamente anche se a volte non ve lo dimostro però vi voglio molto bene e poi ringrazio il mio amore eccolo questo qua perché mi fa penna perché mi fa penna però penna proprio penna ma anche perché in altro come dove lo trovi secondo me dopo mi hanno buttato lo stampo sì è vero che far ridere chiudere a 5,99 cioè manca il seicentesimo e vabbè secondo me il seicentesimo è lì che ci osserva lui ci guarda ci studia magari adesso in questo periodo si andrà a rivedere le live secondo me vedrà se prende spunto secondo me verrà incentivato e stunk arriva notte doni notte doni grazie ancora concordo con quello che dice il nostro doni buone vacanze a tutti quanti divertiti che fai tutto quello che vi passa sempre sicurezza mi raccomando ragazzi però senza rinunce senza pensieri notte a tutti grazie doni grazie insomma perché comunque sempre presente come sempre presente anche la nostra erminia la nostra samanta la nostra pepile tutti 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 siete sempre presenti quindi grazie 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 di cuore ovviamente io lo dico sempre un grazie va a lei l'unica la sola l'inimitabile con lei che me supporta ma me sopporta soprattutto perché non è che me sopporta solo qua me sopporta anche quando io non sto qua quando io sto fuori cioè quando non la mattina quando io mi alzo durante il giorno e la sera e le videochiavate mentre mangiamo nei giorni liberi che io magari gli faccia la videochiamata che sto sempre in piedi e lei taglie che me fa mangia seduto mettete seduto io sì ma mo c'è tanto mangio in giro per casa capito perché c'ho 200 milioni di cose da fa vado sempre per uno come dima roma e lei c'è lei c'è ci sono i ragazzi della community ci sono i ragazzi dei vari gruppi quindi io ringrazio anche loro mi spiace ovviamente non essere molto presente nei vari gruppi ma chi mi conosce sa che veramente vado sempre per uno alle volte mi scordo anche veramente di mangiare ma poi non è manco tecnologico quindi insomma c'è già tanto che riuscimo a far partire live e grazie a te o grazie a sor e infatti e infatti tutto questo lunghissimo anno le sue meravigliose grafiche i loghi e tutto quanto veramente io vorrei fare un ringraziamento anche a tutti coloro che sono stati presenti proprio all'interno delle live in video in audio quindi a tutti gli ospiti che sono stati presenti anche durante le maratone appunto un Jovi un Alisim un Easy Massimo chi altro c'è aspetta Fabio Musso Sheila Federica Lady Mint insomma tutti grazie veramente tutti 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 e ricordatevi una cosa siate sempre liberi di essere voi stessi tenete sempre forti i vostri pensieri e ricordatevi che questo è un'isola felice qui potete veramente essere voi stessi quindi noi vi accogliamo sempre a braccio aperte perché quando venite ma grazie noi siamo contenti di aver conosciuto anche te assolutamente ma come siamo contenti di aver conosciuto tutti quanti voi quindi noi vi aspettiamo qui a settembre tenete sempre un occhietto sul sul gruppo facebook perché comunque lì poi arrivano le comunicazioni e con questo io vi auguro buone vacanze riposatevi perché torniamo ricaricatevi torniamo perché il mio cuore esercitatevi su The Sims brava brava perché il mio cuore è dei miei moderatori e della mia Alessandra e poi il vostro Leonora cosa sta ridicando guarda aia aia no questa domani la faccio passate domani vi dico solo mi sanguineranno le orecchie proprio no ma ma non mica aspetta domani aspetta che chiuda la live aspetta che chiuda la live misderena misderena poi come vado a Roma mancomi ciao Alessandra pam così una pizza in faccia poi mi dice ciao poi mi dice ciao fa alla fine male male a me cioè è veramente vendetta tremenda ragazzi è arrivato veramente l'orario buonanotte grazie a tutti e buone vacanze divertitevi mi raccomando ciao ragazzi a settembre ci rivediamo ciao 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 però questa scala c'è nel senso la casa qui su il terrario c'è un funghetto tra noi la casa il recito davanti ricco il recito riccita no la pizza sbagliato sbagliato ciao